17 febbraio 2023, messaggio di San Michele Arcangelo a Sceleana, questo è il tempo dell'ira di Dio, preparatevi. Ecco uno dei tanti messaggi che riceve la veggente americana Sceleana, questa volta il messaggio viene ricevuto da San Michele Arcangelo, il principe delle milizie celesti che fa comprendere con le sue parole, l'ira di Dio che è adesso. In questo messaggio si parla di un periodo di grande tribolazione, con una grande oscurità in arrivo su tutta l'umanità e terremoti, ma anche di un gas velenoso che contaminerà l'acqua. San Michele Arcangelo però dice che tantissimi angeli verranno in nostro aiuto e ci difenderanno dal male che dilagherà nel mondo. Un messaggio apocalittico. Leggiamo il messaggio Amatissimi di Cristo Gesù È giunto il momento di rifugiarsi nel Sacro Cuore di Gesù Cristo, dove riceverete le urgenti benedizioni necessarie per la tribolazione. I cieli saranno scossi, mentre gli elementi sulla terra mostreranno la collera di Dio. Gli ululati del vento e lo splendore dei lampi feroci accompagneranno una grande oscurità. Gli echi del male si sentiranno all'esterno e rimarranno all'interno. Mentre scendono le tenebre, le candele benedette dei fedeli arderanno luminose. Moltitudini di angeli vi circonderanno e vi difenderanno dalla malvagità che sarà consumata da questa oscurità. L'aria sarà densa di gas velenosi che contamineranno le acque rendendole amare. La terra tremerà e si spaccherà. Una pioggia di fuoco incuterà paura nei cuori di chi non ha riparo. Amato popolo di Dio Pregate senza sosta e la paura non dominerà i vostri cuori. Questo sarà il tempo dell'idea di Dio che si riverserà sul mondo. Pregate senza sosta e unite le vostre preghiere a quelle della nostra madre, recitando il suo rosario di luce che trafigge le tenebre dell'Anticristo che ora è in mezzo a voi. Sono pronto con moltitudini di angeli a difendervi dalla malvagità e dalle insidie del diavolo i cui giorni sono pochi. Così dice il vostro vigile difensore. Così dice il vostro vigile a chi non ha riparo.